Coddi? Gioco finito. Ehi, che hai detto? Non sei tu il consulente per gli investimenti? I miei soldi non sono ancora nel tuo conto di investimento. Non vuoi nemmeno una commissione? Non sono mai stato interessato ai soldi e sparpi. Ma da dove venuto, devi tornare di nuovo. Ehi, scusa! Di che diavolo stai parlando? Capo, guarda! È un bastardo! Prendetelo! Come? Non so, non so. Non so. Non so. Non so. Che wase va a追加ciare? Non c'è chiama? Oggi si chiama il nostro lavoro e non c'è chiama il nostro lavoro Lo scampo è molto importante Il nostro lavoro è stato un lavoro Lo scampo è stato per 100% Per quanto riguarda il nostro lavoro L'ottor è stato un lavoro E' stato un lavoro Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti.